signori benvenuti alla ventitresima puntata de e si non è il sestante news tv perché abbiamo deciso di cambiare il nome del nostro format rimane tutto tale quale e prego adesso la nostra gentilissima silvia di arrivare con il nostro nuovo banner ecco qua grazie silvia questo qua è il nostro nuovo la nostra nuova denominazione nel nostro format abbiamo pensato di chiamarla in una maniera un po diversa perché comunque voi sapete che per me il confronto di idee è importantissimo lo scambio culturale l'occasione per questa trasmissione è quella di condividere il pensiero dei nostri ospiti e possibilmente arricchirci della dell'esperienza degli altri quindi da questo momento in poi conseguiamo la sequenza numerica però il sestante news tv ci lascia rimane solo il nome della testata il sestante news che come sapete è il nome della nostra testata giornalistica rimane invece eccolo qua lo leggiamo assieme insieme idee e persone silvia grazie della tua gentilissima collaborazione e adesso vado a presentarvi immediatamente i nostri gentili ospiti partendo dalla mia sinistra abbiamo andrea martellato che il sindaco di fiesso d'artico poi diciamo abbiamo la la cecina santoro che il referente gruppo ape ollus di verona poi invece abbiamo la marta campanera che titolare centro estetico già d'ora estetica e cosmesi di treviso poi ci spiegherà cioè spiegherà lei perché l'abbiamo invitata invece qui alla mia destra abbiamo ilaria maso che insegnante danza moderna presidente centro asd olimpia di dolo poi a seguire invece sandro lazzaroni che presidente sos handicap bambini invisibili e da ultimo vanno per ultimo massimo maso maso scrittore panama caffè e dalla parte della fodera qui uno scrittore e poi ci ha portato anche i suoi libri ecco prima di capire un po più nel dettaglio cosa fanno i nostri ospiti partiamo dalla domanda più facile perché fare il sindaco maspellato oggi e per questo ho usato il termine fare no fare l'amministratore di un comune è diventato una cosa più complessa rispetto a qualche anno fa se diciamo che effettivamente l'amministratore oggi giorno si trova davanti a una complessità di incarichi e di normative che lo portano sicuramente a decidere meno di una volta però avere molte più responsabilità di una volta decidere meno perché le normative già ti mettono dei paletti ti mettono dei muri ti mettono degli ostacoli davanti che per scavalcarli devi lavorare dieci volte per ottenere lo stesso risultato che potevi ottenere dieci anni fa e poi dall'altra parte però le responsabilità ci sono tutte questo però non deve essere almeno non lo è stato nei miei nel mio caso come qualcosa che mi ha affermato per fare il sindaco del mio paese un paese di poco più di 8 mila abitanti quindi un piccolo paese che però ha delle grosse esigenze come ogni anche grande città perché tutto quello che c'è è di necessario in una grande città più piccolo però lo è anche nella mia il sindaco di una grande città decide per dieci cose magari io ne decido per una però sempre abbiamo ambedue la stessa responsabilità sulle stesse cose bene bene allora magari avremo modo di approfondire ecco allora invece chiediamo la cecilia santoro cosa è questa gruppo ape onlus a verona anzi ringraziamo cecilia perché è venuta da verona e si sa che sono comunque 100 e passa chilometri quindi veramente grazie grazie a voi dell'invito mi ha fatto molto piacere si voleva un po' spiegare allora cosa allora io faccio parte dell'associazione ape onlus associazione progetto endometriosi che è un'associazione che è nata oltre dieci anni fa reggio emilia da un gruppo di donne affette da questa malattia purtroppo poco conosciuta che è l'endometriosi e loro si sono date da fare hanno creato questa associazione sulle loro forze e senza aiuti e adesso l'associazione è diventata a livello nazionale abbiamo gruppi in in tutta italia da aosta a palermo io appunto sono reperente del gruppo di verona e la nostra mission è quella di informare le donne ma tutta la collettività e sensibilizzare la collettività su questa malattia appunto l'endometriosi che colpisce 14 milioni di donne in europa e quindi è sicuramente di un impatto sociale molto forte bene bene poi ci spiegherà cosa è l'endometriosi bene adesso invece siccome si aspetta la balta campanella la parola passo invece a illaria così si può rilassare ancora un po ecco se ne pensa illaria basso insegnante danza moderna presidente centro asd olimpia di dolo che vuol dire allora il centro perché c'è quando si parla di danza moderna cioè ci sono 80 discipline certo ai pop danza di quadra c'è ci vuole un po spiegare come si sta evolvendo questo fenomeno della data certo allora il centro olimpia ha questa questi corsi di danza moderna da me tenuti noi facciamo danza moderna di metodo mattox che è uno dei metodi di danza moderna più famosi ci siamo specializzati in questo ovviamente poi l'associazione ha un sacco di altre insegnanti e attività proposte io nello specifico seguo questa quella la danza moderna e un po tutte le attività come direttore artistico dell'associazione bene bassimo maso scrittore di due libri però mi pare che ne ha scritti anche altri sono già la settima pubblicazione la settima pubblicazione però lei mi ha preferito che io citassi panama caffè e dalla parte della fodera sì semplicemente per il fatto che sono gli ultimi due il più recente panama caffè sono niente è il mio ultimo è la mia ultima passione mi ha coinvolto mi piace ho cominciato a scrivere una quindicina di anni fa ho partecipato a un concorso sul suggerimento di un amico quasi per scherzo ho avuto un buon risultato e da lì sono partito senta ma e come si diventa scrittori faccio questa domanda perché spesso mi capita di invitare qui in trasmissione persone che magari fino a ieri facevano che ne so l'impiegato statale piuttosto che il continuare su un impiegato statale piuttosto che magari l'ingegnere così il bancario mi è capitato l'informatico e poi alla fine decidono si alzano la mattina e si comincia a scrivere un libro diciamo che io da da quando ero ragazzo avevo la buona abitudine di annotare pensieri emozioni che poi trasformava in piccoli racconti ma erano cose che tenevo per me poi appunto ha avuto questa occasione questo stimolo dato da un amico e a un certo punto ho deciso che era il momento di rimettersi in gioco perché scrivere è un meccanismo per rimettersi in gioco per entrare dentro una realtà nuova e soprattutto affrontare nuove realtà nuove realtà che sono quelle che non conosciamo perché il gioco della scrittura come il teatro è esattamente questo per dare credibilità ai personaggi occorre necessariamente vestire dei panni che non sono i nostri e automaticamente ci facciamo delle domande che non ci saremmo mai fatti e di risposta otteniamo qualcosa che non avremmo mai avuto il coraggio di andare a cercare. Allora le chiedo la cortesia di uno dei libri che vuole magari prendiamo spunto da qualche qualche brano particolarmente significativo poi magari ce lo leggerà nel frattempo invece dico a Cecilia Santoro che scommetto che ha veramente voglia di, perdono, Marta Campanera che ha veramente voglia di dire la sua e il suo momento ci vuole dire un po' cosa vuol dire ecco la Marta Campanera fa un lavoro molto particolare, adesso ce lo spiega perché comunque non è un centro estetico particolare ma come ha detto prima un centro estetico oncologico ci vuole spiegare un po' meglio? Sì, allora in realtà il nostro è un centro estetico tradizionale nel quale ci sono due estetiste specializzati in estetica oncologica che siamo io e la mia collega Tiziana. Diciamo che l'estetica oncologica nasce più che altro per un'esigenza da parte dell'estetista di seguire le nostre clienti che seguono un percorso un po' complesso come quello dell'estetica oncologica, come quello dei trattamenti oncologici, è un percorso che abbiamo fatto, che abbiamo affrontato insieme proprio per riuscire a dare alle nostre clienti un servizio in più e riuscire a seguirle soprattutto in un periodo complicato e complesso come quello della terapia oncologica. Non vorrei dire. Ma guarda abbiamo un uomo di tempo. Sì, infatti ho tempo dopo. Va bene, avremo modo. Pensi magari a qualcosa di interessante da aggiungere e poi magari qualche domanda io la fanno anche io perché comunque vorrei approfondire alcune tematiche. Da ultimo, per ultimo, Sandro Razzaroni. Cosa vuol dire handicap per bambini invisibili? SOS indica bambini invisibili perché è un'associazione che nasce nel territorio veneziano, Venezia, Mestre Terraferma, con bambini che avevano malattie rare. Esisterà nel 99, la mia bambina è ormai 30 anni, quindi bambini un po'. Quindi seguiamo il tema delle malattie rare e in particolare delle malattie neurodegenerative per cui facciamo delle attività con il centro servizi per il volontariato nella polisportiva teraglio, quindi cerchiamo anche di ampliare. Io in particolare non sono più presidente perché come sapete la regione ci mette un tot numero di incarichi, poi uno non deve fare il presidente a vita. In Cina invece hanno deciso di farlo a vita, noi no. Vabbè, comunque sono responsabile adesso del sportello diritti. È interessante che ci sia un sindaco perché io lavoro nel comune di Spinea e probabilmente andremo alla collaborazione con il comune su uno sportello diritti e soprattutto per far capire la gente per esempio a livello di legge 104 e di tutto quello che è connesso con la disabilità, tutto come ci sono le burocrazie. Io oltretutto ero un ex dipendente intris per cui mi occupavo proprio di prestazioni sulla disabilità e è abbastanza complesso muoversi e la gente molto spesso non sa di cosa, che porta, che qual è il portatore di diritti. Bazzaroni, allora visto che lei comunque ha citato questo discorso dell'Inps, però io so che… Sono ex. Ex, visto che mi ha dichiarato delle competenze a riguardo, volevo chiedere un parere riguardo al fatto che comunque le pensioni di invalidità sono veramente alla fame, parliamo di 100, 200, 300 euro più il supporto dell'accompagnatore, però se superi, se hai un altro lavoro ti viene defancato, non le sembra che sia un'ingiustizia questo? Una bella questione, mi sta ponendo. L'Inps, l'Istituto Nazionale di Prevenza Sociale si occupava di pensioni di lavoratori dipendenti, come sappiamo l'assistenza invece è un'altra, è la fiscalità generale, per cui i finanziamenti che devono arrivare per i disabili, per persone che hanno perso il lavoro, i dibattiti che sono in atto, devono venire dalla fiscalità generale, mentre l'Inps doveva pagare pensioni, a seguito dei versamenti di contributi, in Italia si è deciso di non versare sempre meno contributi, dopo è chiaro che le casse dell'Inps fino al 2010 erano in attivo, i fondi pensioni per le pensioni da lavoro dipendente erano in attivo, poi sono entrati i lavoratori statali, lo Stato è il primo che non versa i contributi per i suoi dipendenti e tutto il discorso dell'assistenza alle persone svantaggiate, che sono diritti costituzionali, oltretutto non stiamo parlando di qualcosa che gentilmente concedono, sono diritti costituzionali, le risorse devono venire dalla fiscalità generale. No, è un vero peccato che poi alla fine, magari non, vabbè io non voglio fare facile polemica, però la figlia disabile arriva ai 600, i 700, perché poi c'è anche l'abilità lavorativa che subentra ai 18 anni. Io so che se trovi un lavoro addirittura ti viene anche defalcato. Ah beh, ci sono i limiti. Non vorrei fare la solita polemica, però magari c'è qualcuno che prende, dicono, 35 euro al giorno e poi magari c'è qualcuno che ha veramente bisogno in Italia che ne prende di meno, Martellato. Sì. Lei non ha migranti a Fiesso? Sì, ne ho 24. Ah, 24. Ne ho 24. Ma dove li avete sistemati? Li abbiamo sistemati, li abbiamo. Cioè la cooperativa? La cooperativa li ha sistemati in un ex hotel, che era già tre anni che non era chiuso, li hanno sistemati in questo locale. Devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema, perché credo e non sono sempre più convinto che la questione del migrante, al di là del problema che mi trova in totale disaccordo della gestione nazionale sul problema, però sulla gestione locale varia molto a seconda della cooperativa o dell'associazione o della società che gestisce il centro. Perché se è una cooperativa che è nata magari il giorno prima, ha un certo fine, che è quello di 35 euro. Se è una cooperativa sociale, magari che sul territorio lavora da 10, 20, 30 anni, che lo fa come mission, ecco che la cosa è ben diversa. Quindi voi siete riusciti, avete trovato? Quando il profetto, io sono stato uno fra i primi, parliamo ancora di tre anni e mezzo fa, quando il profetto mi ha quasi imposto la cosa perché mi ha detto li mettiamo nelle palestre scolastiche, ho detto no, ci muoviamo differentemente, ma li mettiamo solo per un mese, dopo il mese diventa, so cosa diventa. Allora ci muoviamo diversamente, ho chiesto che venga dato a quel tipo di cooperativa là che conoscevo e sapevo come lavoravano e così è stato. Sono stati trovati i luoghi e là stanno gestendo al meglio. Tra l'altro una volta alla settimana, che dopo a dire la verità diventano oltre i 15 giorni, fanno anche lavori socialmente utili nel paese, quindi puliscono la piazza, cose da poco, perché non possiamo dargli in mano nessun attrezzo, non possiamo dargli in mano nemmeno una forbice perché la legge non ce lo permette, eccetera, eccetera, però una scopa e una paletta, ecco puliscono per terra. Ho capito, ho capito. Senta, e vabbè, poi le chiederò ai suoi cittadini cosa hanno pensato. Maso, abbiamo trovato qualche frase interessante che magari vi fa piacere. Io ho pensato di leggere sulle ispezioni. Ecco, magari vuol far vedere in favore di telecamera, Marta, vogliamo inquadrare. Questo è dalla parte della Fodera, che è stato edito nel 2012 dalla giovane Olden di Lucca, e questo è il Panama Caffè, che è stato edito dalla Gilgamesh di Mantova nel 2015. Dalla parte della Fodera è una raccolta di racconti che hanno come fuoco ognuno un personaggio femminile, e il Panama Caffè è una specie di noir ironico. Allora, leggiamo qualcosa del Panama Caffè. Bene. Allora, del Panama Caffè potrei leggere su un brevissimo tratto, in cui c'è il protagonista che è un ex professore di filosofia, che ha a che fare con una donna che è un avvocato. E se succedesse a te di dipartire, così all'improvviso, senza aver predisposto nulla di che, e mettiamo che un amico dovesse dire di te in chiesa, cosa pensi che direbbe? Se è un amico vero, cioè che mi conosce, non direbbe di me in chiesa, ma davanti un fiasco di vino e un panino con la porchetta. Ricorderebbe i miei tempi e nessuno avrebbe motivo di rattristarsi. Vabbè, dai, così sono buoni tutti. Non fare l'anguilla filosofa con me. Bene. Mettiamola così. A tuo insaputo, uno sconosciuto dovrà recitare qualche parola di cordoglio. Cosa vorresti sentir dire? Rovesciamo il gioco? Propose lui per facilitarsi la fuga. Facciamo finta che sei tu quella sconosciuta. E facciamo finta che non sei proprio una sconosciuta, ma che invece mi conosci bene fino in fondo. In mancanza di mie disposizioni, in proposito, cosa diresti? Immagino veramente, ti verrà più facile? Facile, ma brutto, deglutendo. Ma dovendo, non direi, piuttosto scriverei. Scriverei da qualche parte, in un luogo che hai amato, anche lontano da qui, o lontano nel tempo, adudendo un ricordo comune, dove una parte di me ti ha smarrito e poi atteso. E scriverei, bestemmiò amorevolmente il cielo e amò lussuriosamente la terra. Litigò con Dio e invidiò il suo Cristo. Con le regole ci si pulì il culo, ma non tradì mai una stretta di mano. Mise in croce qualcuno, a dispetto di sincere intenzioni, e non cercò mai il paradiso, semplicemente perché non sapeva dove trovarlo sulla carta stradale. Amò, odiò, barò. E scelse di vivere da Ulisse. Ed è stato un bel vivere. Bene, complimenti allora. Grazie. Bello veramente. Bene, allora passiamo magari ad un altro argomento. Francesco Cecilia Santoro, visto che comunque, diciamo, lo ripetiamo anche prima, che è venuta apposta da Verona a parlare, una bellissima città da Verona, a parlare di endometriosi. Ecco, però, quali sono i successi di questa associazione negli ultimi 12 anni? Quali sono le vostre conquiste? Beh, allora, devo dire che siamo cresciute moltissimo, perché ripeto, siamo nate dall'idea e dalla volontà di queste giovani donne, un gruppo di donne che si sono trovate da sole di fronte alla diagnosi, di una malattia di cui nessuno aveva mai sentito parlare e nessuno sapeva che cosa fosse. Quindi con il lavoro, con l'aiuto, perché poi viene fatto da tutte come volontariato. Tutte noi abbiamo una famiglia, abbiamo poi un'attività lavorativa, ma nel tempo libro ci dedichiamo all'associazione, perché crediamo fermamente nella nostra missione. Siamo diventate, ripeto, una realtà nazionale. Collaboriamo con i più grandi, i più importanti centri medici specializzati in questa patologia in Italia. Sabato scorso abbiamo fatto il nostro convegno nazionale a Roma con una serie di tavole rotonde con cui abbiamo portato all'attenzione dei partecipanti svariate tematiche relative alla diagnosi della malattia, al trattamento della malattia, ma anche da un punto di vista alimentare, da un punto di vista psicologico, quindi cercando di aiutare le donne in ogni ambito della vita, visto che questa malattia di fatto totalizza la tua vita, totalizza il tuo tempo e purtroppo le tue amicizie, il rapporto col partner, di fatto è una malattia sociale. Insomma, se pensiamo a quante siamo in Italia, 3 milioni si stima perché non c'è registro nazionale, in Europa 14 milioni, uno può capire di che impatto stiamo parlando. Siamo riuscite alla fine di febbraio, come prima associazione italiana, insieme a un'associazione francese, Endofrance, ad andare al Parlamento europeo. Siamo state tramite le nostre rappresentanti ascoltate dai parlamentari europei per diffondere, insomma, anche a livello delle istituzioni europee, quindi oltre i confini nazionali, la conoscenza di questa patologia e richiamare le istituzioni stesse all'aiuto verso le donne, perché al momento di aiuto ne abbiamo veramente poco. Va bene, poi parleremo del, so che c'è stato un convegno nazionale, giusto? Sì, appunto, sabato. Bene, ne parleremo ancora di più. Ecco, Sindaco, volevo chiederle, I suoi cittadini si sono inalberati, ci sono certi comuni, non so adesso se spontaneamente o non spontaneamente, hanno strumentalizzati picchetti, diciamo, falò, striscioli di protesta, invece lei nel suo comune... No, inizialmente avevano... Parliamo sempre di migranti, quindi attenzione. Inizialmente avevano un po'... Storpanasio. Sì, mi avevano detto, ma la settimana prossima inizieremo a fare delle manifestazioni, li ho sentiti, li ho parlato, gli ho spiegato la situazione, gli ho spiegato cosa poteva succedere se non si facevano certe cose, ho detto a loro, come dico anche adesso pubblicamente, ma l'ho sempre detto, che non sono d'accordo su questa politica di immigrazione e che però il problema ce lo troviamo e lo dobbiamo gestire perché come gran parte delle cose alla fine sono sempre i comuni che pagano e dopo se c'è tempo spiegherò anche altre cose, sempre anche sul sociale cosa ci aspetterà più avanti. Ecco che a questo punto si sono un po' fermati, ho detto datemi sei mesi di tempo, vediamo come funziona, è funzionato bene e quindi li hanno accolti in maniera positiva. Va bene, perché poi alla fine parliamo dell'aspetto economico come diceva lei prima al sindaco, effettivamente si sa che certe cooperative potrebbero, non facciamo ovviamente in azione, essere la tendenza un po' a speculare sulla cosa, però se consideriamo 35 euro per 30 giorni è chiaro che non vanno questi 35 euro ai migranti, 35 euro è il costo che è complessivo per quanto riguarda vitto alloggio, vestiario eccetera, perché ricordatevi in un'altra trasmissione abbiamo avuto anche il sindaco di Cona con il presidente di una cooperativa. Però effettivamente 35 euro per 30 giorni quando poi una persona in Italia con forte disabilità, quindi con forti limiti operativi, mancarsi all'autonomia invece, prende 5-600 euro. Dal mio punto di vista è un'ingiustizia. Cosa ne pensa Sandra? Lei diciamo, effettivamente, è chiaro che voi come associazione potete dire la vostra, però non c'è la possibilità di andare in Parlamento di fare delle petizioni, di raccontare questa storia, diciamo anche all'eserio coltune. Dunque, per esempio, un disabile, sembra che ti do del tu, accennavi anche prima, se io sono una persona disabile, usufruisco dell'inabilità lavorativa, per caso trovo di andare a lavorare su 2.800 euro di reddito, quindi 200 euro al mese, non sono più a carico esco attraverso il discorso dell'Ise, esco, non sono più a carico della famiglia, comincio a perdere alcune agevolazioni che sono collegate alle detrazioni, per cui conviene non avere quel reddito aggiuntivo, che spesso è un reddito di integrazione, perché parliamo chiaro di un disabile grave, come può essere il carico di mia figlia, va a lavorare presso delle cooperative di tipo B, dove fa un lavoro, che magari il telelavoro si mette davanti a un computer, quello che può fare al suo livello, ma sono tantissimi, tantissimi, ci sono molti disabili che potrebbero avere ulteriori redditi, basta alzare da 2.800 a 4.000, a 6.000, adesso hanno fatto una legge, hanno alzato il reddito, ma fino a 21 anni, dopodiché dopo i 21 anni uno ricade, per cui le cose da fare sono tantissime, sono anche logiche, di buon senso, e non sarebbero quali a corto zero. Alla fine, non so come la prensa del sindaco Martellato, però io ho visto una campagna politica molto accesa, siccome non è neanche la prima campagna elettorale che vedo, perché non ho più 20 anni, però ho visto molte, molte promesse, però ti do 1.000 euro, reddito di cittadinanza, ti tolgo il bolo, ti tolgo il canone rai, però nessuno che ha parlato di disabili, c'è nessuno che ha parlato di venire in incontro, ma comunque è un fenomeno di cui lo Stato si dovrebbe fare, forse è l'unico, c'è anche il collocamento per il disabile, ci dovrebbe essere un collocamento agevolato, le ditte hanno agevolazioni, hanno dei contribuzioni, però preferiscono non assumere, e allora in Lombardia cosa fanno? Tu non assumi, facciamo un fondo presso la regione, attraverso quel fondo, diamo da reddito, perché non è più un reddito solo di assistenza, ma comincia a diventare un reddito perché uno comincia anche a attivarsi, come bisognerebbe fare attivare gli immigranti? Insomma, è inutile che ce li teniamo qui e gli impediamo di fare qualsiasi tipo di lavoro, almeno che diventino forme di... Però lì evidentemente ci sono delle tutele diciamo legali dovute a... Sì, sì, certamente, ma anche con il disabile ci devono essere tutta una serie di normative, non è che puoi buttare lo butti in fonderia, devi avere un posto con tutto... Infatti spica questo fatto che comunque evidentemente forse gli interessi economici di avere i fondi europei, ricordiamoci che questa solidarietà che questi 600.000 migranti ricordiamo e mi pare che a Dublino diciamo è stato sottoscritto l'accordo e l'accordo era con la comunità europea quella di far arrivare anche i fondi. Certo che io non dico che dobbiamo essere creare il muro non si non si arriva in Italia però sicuramente la politica sono d'accordo con quello che dice Martellato la politica fatta dall'Italia è stata troppo tollerata quindi magari a me piacerebbe pensare che il sistema Macron dove vieni se sei un rifugiato politico ma non un rifugiato economico sia più corrispondente a quella che dovrebbe essere un po' diciamo la forma diciamo quasi perfetta cioè ti accolgo se veramente nel tuo Stato ci sono delle guerre civili ma non ti accolgo perché magari non hai voglia di lavorare nel tuo Stato non ci sono occasioni e ti devo accogliere e mantenere questo è quello che ha fatto la Francia con evidenti risultati Massimo Maso io quando ripeto mi ho invitati parecchi di persone che hanno scritto il libro faccio più o meno sempre la stessa domanda però a lei gliela faccio un po' particolare secondo lei per esempio il Noir il Panama Cafe ecco quello che ha comprato il suo libro che sensazione ha avuto alla fine quando ha letto l'ultima pagina che in genere l'ultima pagina è sempre la metà pagina che sensazione ne ha ricavato posso riferire i commenti che ho sentito da amici da conoscenti e che ho ritenuto anche abbastanza veritieri da come mi sono stati esposti si sono divertiti anche perché questo romanzo tratta di un paese che è dolo con i suoi abitanti e soprattutto con particolare attenzione sono i subprotagonisti i bottegari cosiddetti bottegari quelli che hanno attività o meglio quel tipo di attività dentro il paese sono diventate attività storiche ma che nel tempo hanno anche contribuito a fossilizzare la mentalità del paese quindi e che senso fossilizzare fossilizzare perché sono legati alla mentalità di un tempo del non mettersi in comune con altri con quelli nuovi creare qualcosa di costruttivo creare un legame fra le varie realtà economiche ognuno tende a mantenere il proprio giardinetto il proprio orticello e lo coltiva in maniera abbastanza egoistica tant'è vero che nel bromanzo sono camuffati ovviamente i nomi le situazioni sono esasperate sono esagerate perché è anche ovvio però molti si sono riconosciuti e molti mi hanno detto ah sì è vero si comporta così sì è vero quella bottega ha quella caratteristica ma non con una con una punta di di critica o di ostilità invece come riconoscerla come caratteristica del paese come un ormai fa parte del paese così non si può cambiare mi va bene così perché dobbiamo anche considerare questo cioè determinati personaggi determinate attività sono comunque un aspetto fondamentale del paese l'hanno costruito come identità quindi è stato un diciamo un libro che a me ha divertito scriverlo è diventato un gioco e chi l'ha letto ha detto sì mi sono divertito e l'ho riletto un'altra volta ecco a proposito di questo Martellato l'ha detto adesso Massimo Maso nei comuni oggi si tende un po' io vedo anche in altri comuni anche a Mirano è successa la stessa cosa le diatribe tra i residenti che vorrebbero il comune diciamo mi passi il termine quasi come un cimitero senza attività senza ragazzi senza feste senza ricorrenze eccetera invece c'è una parte della cittadinanza che dice no noi vogliamo vivere il territorio però ecco adesso non so com'è la situazione a Fiesso però io credo che questa diatriba in cui comunque intendenzialmente vedo che i comuni tenderebbero un po' da accontentare quelli che risiedono la piazza ha portato secondo il mio punto di vista masse oceaniche verso i centri commerciali quindi adesso abbiamo delle bellissime città che però sono morte come ne chiamo i centri cioè quindi negozi chiusi attività commerciali che cessano e poi alla fine mancano le vitalità ecco non so se com'è la situazione a Fiesso e lei in particolare che tipo di iniziative sta adottando per tenere viva perché io so che lei ci tiene molto ho avuto un riscontro diciamo da più punti di vista ci tiene moltissimo alla vitalità della sua città però come riesce a conciliare uno e l'altro sì questo è un po' quello che succede dappertutto quando che il singolo cittadino chiede qualcosa vuole il negozio che il bar l'attività l'inceneritore purché non sia vicino a casa cioè vuole il movimento vuole l'evento ma purché non lo disturbi personalmente questo succede su tutti i campi si deve cercare un po' di dare un qualcosa al cittadino che però senza estremizzare io ho iniziato già ormai da 5-6 anni un un lavoro su tutti i commercianti che ultimamente sta prendendo veramente corpo gli ultimi due anni soprattutto un anno e mezzo devo dire dal secondo mandato ho fatto un lavoro di cercare di metterli assieme di fare gruppo tra loro cosa che prima non era a differenza magari di Dolo perché Dolo era già un comune abituato un po' al commercio alla bottega al negozio Fiesodartico era un negozio cioè era un comune improntato sulla fabbrica sulla fabbrica di calzature di scarpe quindi aveva poca attività lo stesso mercato vediamo cioè non ha richiamo e allora mi sono un po' inventato questo fatto di cercare di dare ai commercianti un modo per essere presenti sul territorio quindi fare attività non molte però le due tre attività all'anno che siano significative e che abbiano veramente qualcosa di attrattivo prendere i negozianti anche se sono fuori dal centro e dargli uno spazio all'interno della piazza in quel giorno là in modo da anche se non vendono niente però pubblicizzarsi e dire guarda ci sono anch'io a Fiesodartico una cosa del genere che ha portato l'anno scorso a fare il Welcome Comeback che era un'attività proprio fatta e autogestita dai commercianti senza nessun aiuto da parte del comune se non insomma il plateattico le classiche cose che insomma il comune è giusto che sia disponibile a dare e a metterci però loro si sono autonomamente gestiti hanno fatto una serata con pioggia una sfilata hanno fatto una serata in piazza una sfilata pioveva e avremmo avuto 300 persone sotto la pioggia quindi posso posso dire che è stata una serata riuscita si ripeterà anche quest'anno poi abbiamo il mercatino del natalizio dell'8 dicembre anche questo mi si impiede 5 anni fa con ottimi risultati purtroppo l'8 dicembre di quest'anno ha piovuto e quindi non è stato fatto ma però al di là della questione meteorologica diciamo che è un paese che un po' alla volta inizia anche a prendere forma sugli eventi certo che non bisogna esagerare però bisogna tenerli sotto controllo e quindi non dare libertà al 100% però cercare di rimanere in un giusto rispetto anche per il cittadino che alle 11 e mezzanotte vuole andare a letto e non vuole trovarsi il bar oppure l'evento che protrae fino alle 4 di mattina ecco bisogna dare un giusto equilibrio alla cosa quindi i cittadini diciamo hanno apprezzato questo sforzo ma secondo te si può fare qualcos'altro per evitare che i cittadini si guardano in massa nei cittadini dopo stiamo lavorando a un piano superiore assieme all'Unione dei Comuni proprio a ridare vita ai negozi chiusi stiamo pensando a delle possibilità che anche questa è la legge non è che ce lo permetta al massimo però dobbiamo trovare la modalità per esonerare di qualche incombenza di tassa e i negozi che sono chiusi in modo da dare vita a tutte quelle parti che magari per questioni che il proprietario vuole essendo non sono più gli anni di dieci anni fa dove un negozio si affittava non so a 2000 euro al mese oggi se prendi 1000 euro è tanto quindi devi un po' adattarti al mercato attuale però da parte del Comune cercare di andargli incontro a chi in quell'attività in quell'area magari da togliere il plateattico per due mesi all'anno gratuitamente insomma incentivare in qualche modo la disponibilità di questi commercianti perché poi in effetti credo che per un Comune sia meglio favorire lo sviluppo dell'economia piuttosto che avere la fila allo sportello di Getta che chiede i soldi che non riesce a lavorare questo sicuramente è l'obiettivo primario quello del lavoro quello del lavoro sono fortunato che nel mio Comune oggigiorno la calzatura è qualcosa che ancora va avrà delle difficoltà non sono più gli anni 70 80 però va ci sono grandi firme io la Louis Vuitton che è a sede nel mio Comune come quella anche tante altre calzaturifici che fanno scarpe a livello mondiale e quindi devo dire che sono in maniera positiva messo bene da quell'aspetto là è comunque un'attenzione che il sindaco o l'amministratore deve avere perché se c'è lavoro si risolvono tutti i problemi si risolvono anche i problemi sociali dopo certo ci sono i problemi quelli che devono avere maggiore attenzione che sono quelli legati alla parte sanitaria insomma quindi quelli che abbiamo rappresentanti qui oggi che hanno il mio applauso per la disponibilità che danno perché io dico sempre in ogni occasione che il volontariato e la disponibilità che danno certe persone soprattutto in questo Veneto dico io che se non avessimo loro noi amministratori non potremmo faremmo il 50% di quello che riusciamo a fare se io non avessi la protezione civile la proloco le associazioni di volontariato che portano i pasti a casa alle persone che non possono muoversi che portano le persone disabili a fare le visite se io non avessi quelle persone là veramente non farei il 50% di quello che faccio quindi ringrazio sempre e ringrazio anche loro qua per quello che stanno facendo per il loro territorio perché senza il volontariato quest'Italia sarebbe ferma da un pezzo ecco se sono d'accordo infatti mi rilascio a quello che ha detto il Sinaco voi sapete che come Sestante News come Settimana Online abbiamo una pagina dedicata dalla nascita all'associazionismo e appunto i partecipanti al nostro format tv avranno un banner quindi sia l'Apeolus di Verona qui in Cecilia Santoro sia il presidente del Bambini Visibili Sandro Lanzaroni avranno un banner poi che da domani sarà messo online perché appunto il volontariato non è solo come dico sempre mettere i 2 euro i 5 pari bonifico all'associazione internazionale ma bisogna fare il volontariato locale cioè accompagnare le vecchiette a traversare la strada dare una mano all'amico anche dare una mano a un amico che ha bisogno è una forma alla fine di volontariato perché domani potrebbe capitare anche a noi Senta Cecilia Santoro volevo chiedere come è che l'è venuta in mente a proposito di volontariato di diventare diciamo presidente dell'Apeolus sono presidente responsabile della sezione io mi sono avvicinata all'associazione dopo il mio secondo intervento chirurgico dopo vent'anni di malattie di dolori di invisibilità perché non ero creduta perché i medici mi dicevano che in realtà non avevo niente e avevo perso tantissimo della mia vita dalle pezze con gli amici alle giornate a scuola gli esami universitari le vacanze era stato veramente molto difficile dopo 12 anni ho avuto finalmente la diagnosi di questa malattia e ovviamente non avevo la più palle idea di cosa io avessi perché è una malattia che nonostante sia diffusissima non si conosce ma quindi quando lei parlava di che i dottori non la credevano quindi lei ha dovuto anche lottare io ho cambiato tantissimi medici perché mi dicevano che era normale soffrire col ciclo mestruale che io non avevo nulla in più di altre donne le mie amiche pur nella massima solidarietà femminile ma non capivano il motivo per cui stessi così male mi dicevano ma io col ciclo vado in palestra com'è che tu non ti alzi dal letto e quindi alla fine la risposta era hai una soglia del dolore molto bassa somatizzi il dolore forse un po' nella tua testa psicologico e non mi credevano in realtà io avevo una malattia che mi stava divorando e nessuno era riuscito a scoprirla finché non sono andata in un centro specializzato ecco quindi l'importanza una delle cose che noi diciamo sempre è di rivolgersi ai centri pubblici ma specializzati cioè di medici che sappiano riconoscere questa malattia che è molto subdola e dopo il mio secondo intervento perché dopo il primo si è comunque riformata perché l'endometriosi è una malattia cronica di cui non c'è cura purtroppo ad oggi per cui non guarisci puoi stare meglio hai periodi del talenanti ma la malattia di fatto c'è sempre e su internet ho trovato questa associazione c'era un evento nella mia città per cui mi sono trascinata fino lì ho conosciuto queste ragazze meravigliose e da lì sono tornata la volta dopo e da lì la volta dopo ancora ho deciso di mettermi in gioco personalmente e di dedicare il mio tempo alle altre ragazze come me specialmente quelle più giovani perché l'idea che un'altra donna un'altra ragazza passasse tutti quegli anni di solitudine con un ritardo diagnostico così importante era una cosa che mi faceva urlare non lo volevo e quindi mi sono messa a disposizione così tutte le centinaia di volontari dell'Apeonlus sul territorio lo fanno per questo per le bambine che un domani diventeranno donne perché forse per noi è tardi la nostra esperienza così negativa c'è stata ma per loro no ecco perché noi portiamo avanti un progetto cui teniamo tantissimo che è il progetto nelle scuole chiediamo di andare a parlare nelle scuole superiori alle ragazze di quarta e quinta superiore le scuole che ci accettano ovviamente dove ci accettano noi andiamo e spieghiamo con l'aiuto anche di medici sempre volontari che ci aiutano tutti i professionisti molto seri e stimati spieghiamo a queste ragazze i sintomi spieghiamo che cosa è la malattia spieghiamo loro di non aver paura perché non bisogna andare nel panico nel momento in cui c'è la diagnosi però diciamo anche loro di ascoltare il proprio corpo se c'è un dolore mesturale troppo forte se ci sono dei sintomi particolari non crediate diciamo sempre di essere voi sbagliate andate da un ginecologo esperto specializzato in un centro serio che possa eventualmente farvi la diagnosi perché non essendoci una cura la diagnosi più tempestiva è più probabilità dà alla ragazza di avere una vita poi normale di riuscire a in qualche modo tenerla sotto controllo la sua esperienza di volontariato ce la vuole rendere pubblica nel senso di raccontarci la sua testimonianza attiva perché magari ci possono essere delle persone che ci stanno ascoltando che magari sia perché voi sapete che siamo andiamo sia sul digitale terrestre sia sui nostri social ecco mi piacerebbe che ci raccontassero a profondo la sua esperienza di volontariato io devo dire che ho iniziato il volontariato quindi come dicevo prima sono tornata incontro dopo incontro poi ho deciso di mettermi in gioco inizialmente per guarire me stessa perché credetemi che passare tutta l'adolescenza la giovinezza con dolori atroci che ti ti riducono a letto con tanti sintomi non creduta da chi non dico la mia famiglia perché quella ce l'ho avuta sempre vicino però non creduta dai medici non capita dalle amiche dalla mia cerchia sociale perché essendo una malattia che non si conosceva praticamente pensavano che me la fosse inventata ma perché materialmente non c'era nulla e nessuno che raccontasse loro l'esistenza di questa malattia mi aveva reso veramente rabbiosa e dovevo fare pace con me stessa e grazie all'Ape Onlus ce l'ho fatta perché noi diciamo sempre che lo diciamo alle ragazze che si presentano da noi distrutte arrabbiate e lo voglio dire se c'è qualcuna magari all'ascolto oggi noi non siamo la malattia io ho l'endometriosi ma l'endometriosi non mi identifica io sono molto di più l'endometriosi ha cambiato la mia vita ha cambiato le mie aspettative non mi ha reso madre naturalmente ma io per esempio ho deciso di adottare cioè la mia strada è stata completamente scombussoletta cambiata dalla malattia ma io in qualche modo sono riuscita a riprenderne il controllo facendo pace con quella parte di me che mi obbliga a fermarmi a riposare a non poter fare tutto quello che posso e tutto quello che vorrei e quindi poi dal guarire me stessa cerco di aiutare qualcun'altra a guarire ovviamente le ferite del cuore dell'anima quel che si può perché non siamo medici ma la nostra associazione ha per un messaggio positivo di speranza e non di rabbia e di negatività che la malattia invece ti porta ad avere ottimo grazie ecco Marta Campanella invece lei diciamo nel centro estetico parliamo di di estetica oncologica quindi ci vuole dire che tipo di persone avete fatto dei corsi ovviamente sì abbiamo fatto un corso di specializzazione si chiama estetico oncologi di Milano la diciamo la referente principale è Angela Noviello e lei ha deciso qualche anno fa di iniziare a far crescere queste estetiste perché effettivamente mancava tutta questa parte in effetti noi ci troviamo ad affrontare queste clienti che da un giorno all'altro scoprono di avere questa malattia e di conseguenza fino a qualche anno fa fino a qualche anno fa ci si chiudeva in se stessi quando si scopriva di avere un tumore adesso in realtà tramite psicologi tramite tutta una serie di categorie le persone riescono ad affrontarle in una maniera diversa da parte nostra all'inizio eravamo effettivamente in difficoltà perché comunque non sai come come gestire la cosa non conosci le terapie non conosci la problematica se non l'hai vissuta direttamente non sai in realtà cosa si aspettano e di conseguenza questo corso ti porta a capire tante cose ti porta a capire tutte le problematiche come è nata poi questa esigenza di fare questo corso perché ci sono avvicinate poi persone che volevano allora io ho avuto io ho avuto la fortuna di avere uno del mio guru in estetica di tanti anni fa che lavora con loro e quindi tramite lei che è Rita Molinaro ho iniziato a conoscerle ho iniziato a sentire ma soprattutto ho iniziato a sentirne veramente l'esigenza perché sfortunatamente i problemi oncologici sono sempre più presenti e di conseguenza allora o togli una parte di clientela e gli dici io non so io non so e rimani senza questa consapevolezza oppure la cosa migliore era informarsi informarsi loro sono state le prime che in Italia hanno fatto questa scelta e di conseguenza tutti noi estetiste dopo che abbiamo deciso di appogliarsi a loro bene bene quindi ormai siete un riferimento a Treviso quindi per beh noi in particolare no ma in Italia sicuramente Oti è uno dei riferimenti in particolare perché se una cliente con un percorso oncologico decide di appoggiare se è un estetista effettivamente se sceglie un estetista Oti quantomeno ha la sicurezza di avere qualche preparazione in più certo almeno sicuramente un po' di sensibilità sicuramente benissimo ecco allora invece Ilaria Maso cosa vuol dire fare l'insegnante oggi cioè ci sono delle tecniche particolari cioè lei ovviamente ha preso che avevano ragazzi giovani sì io ho classi come è che oggi i giovani sono un po' diversi rispetto vabbè che anche lei è giovane però cioè lei ha visto una trasformazione dei giovani quando insegna sono diventati più come si poi le chiedono anche come si tengono a ballo i genitori ecco quella è la parte più importante più difficile i primi fan dei figli esatto secondo i genitori i figli sono tutti perfetti allora non è semplice il mondo della danza poi purtroppo ha una serie di lati negativi da disturbi dell'alimentazione che sono insomma una piaga non solo dei giorni d'oggi ma soprattutto anche delle scuole di danza ai genitori fan dei figli che comportano purtroppo ha una una smania anche del genitore di vedere il ragazzino dentro a grandi accademie da subito io prendo classi di bambini di 4 anni dove il loro stimolo è venire a danza e la musica giocare stare insieme e i genitori un po' spingono ecco noi dobbiamo creiamo dentro le nostre classi con i nostri bambini l'idea di fare un lavoro di gruppo perché per arrivare ad essere la prima ballerina di una compagnia di una scuola ce ne vuole e la maggior parte non ci arriva neanche io poi non capisco francamente questi genitori che creano queste aspettative nei confronti dei figli e poi danneggiano i figli stessi perché poi questi ragazzi qua assolutamente non si sentono ovviamente poi lo capiscono da solo che non sono il numero uno e poi nella nostra associazione il Centro Olimpia oltre ai corsi di danza ha una serie di collaborazioni con professionisti come psicologi nutrizionisti posturologi cioè quindi un team che non è solamente gli insegnati di danza ma un gruppo di professionisti che li segue a 360 gradi allora approfitto per rifare una battuta a Maso perché poi alla fine molto spesso mi capita di parlare con gente della mia età anche oltre che dicono le cose non vanno però alla fine la colpa non è di un'entità astratta la roba è nostra che continuiamo a fare questi errori madornali e non riusciamo a capire invece che dobbiamo lasciare lo spazio ai nostri figli per crescere dobbiamo insegnarli a responsabilizzarli se no poi quando entro nel mondo del lavoro non sembra lì di rimproverano adesso è capitato anche a me recentemente che l'ho rimproverato con una mia collaboratrice che aveva cominciato da poco e si è subito licenziata perché evidentemente non era stata abituata alle obiezioni quindi noi genitori purtroppo facciamo certi danni chissà perché diamo la colpa agli altri non si capisce questo aspetto cosa ne pensano a Zerone dare la colpa agli altri io mi aggancio alla storia perché sono simili pur occupandomi di malattie rare malattie rare significa diritto alla diagnosi la prima cosa difficilissima da avere è la diagnosi nonostante siano sorti i centri per le malattie rare che sono a livello regionale funzionano pochissimo devo dirlo quindi la colpa siamo portati a dare sempre la colpa agli altri però dobbiamo muoverci anche noi l'importante però è sapere che sono diritti la diagnosi non è un optional che ti deve dare la struttura sanitaria è un diritto io ho dovuto andare a New York per avere la diagnosi della malattia di mia figlia e ho dovuto andare anche con le decollette poi ho dovuto fare causa ho perso l'altare e ho vinto nella seconda istanza adesso mi sfugge il nome consiglio di stato sono passati dieci anni per avere il rimborso quindi non ci si cura a certi livelli se non si hanno importanti portafogli ma non solo ci sono ci sono le multinazionali dei farmaco che evidentemente certe malattie non ci stanno ma qui ma neanche quello perché io mia figlia potrei curarla per esempio facendogli fare musicoterapia ci sono altri tipi per integrare le persone la musica adesso hanno aperto c'è una scuola è sorta una scuola grazie alla collaborazione tra fatalità noi siamo messi in rete tra associazioni cerchiamo di collaborare perché c'è un proliferare nel Veneto di piccole associazioni che nascono su casi personali io ho fondato l'associazione sul caso personale poi sono riuscito a fare altre cose con altre famiglie che erano bambini gravissimi ma fare cosa portarle in piscina facendoli nuotare una volta alla settimana che è quello che dovrebbe dare il servizio sanitario regionale lo dovrebbe dare come cura ma siccome non decido di portarlo fuori da Ilea te lo devi pagare le strutture sono poche quindi sono tutti una serie di diritti che sono costi ma sono costi che poi avrebbero anche sono anche lavoro anche perché se parliamo di degli ausili dei disabili le scarpe di fiasso d'artico se cominciamo a parlare di quanto costa una scarpa per una persona disabile altro che costa una roba incredibile quindi ci sono le risorse nel settore ci sono nel volontariato nel terzo settore e ci sono nella sanità la gente deve sapere dire che che poi ha dei diritti per cui adesso quando andiamo io sto andando a Padova per curare delle piaghe sono tutti a pagamento ormai non c'è più nessuno che va con le cose cioè ci sono dei piccoli problemi perché non è una società che non ha risorse questa le risorse ci sono le risorse ci sono e secondo me manca un po' di sensibilità hai ragione tu non bisogna sempre dare tutta la colpa agli altri però la gente deve essere consapevole sui diritti e i doveri abbiamo diritti e abbiamo anche i doveri va beh fa sicuramente un po' rabbia che i politici diciamo parlo in generale a livello nazionale non si importano nei propri e li scaricano al sindaco che poi invece deve fare appunto deve come dire avere l'appoggio delle 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 associazioni invece magari a livello nazionale forse si dovrebbe fare qualcosa di più è martellato su questa iniziativa che fa veramente io dico rabbia mi passatevi il termine che ci sono persone che hanno bisogno di tutto anche delle scarpe e devono farlo con i propri fondi devono chiedere collette e devono anche fare causa allo Stato per fare dei diritti secondo me elementari guardi secondo il mio parere che fa politica a livello nazionale dovrebbe prima avere fatto non dico il sindaco ma essersi occupato di qualcosa a livello territoriale che sia l'amministratore che sia il presidente di un'associazione che sia il presidente della Proloco cioè capire veramente qual è il il territorio e quali sono i problemi del territorio perché solo così riesce a farsene carico e trovare una soluzione la migliore delle soluzioni che dopo non è detto che sia quella che risolvi il problema ma però è la migliore delle soluzioni possibili perché oggigiorno i politici dal livello regionale così e così ma sicuramente a livello nazionale sono molto anzi sono totalmente distaccati del territorio questo spiega anche il motivo per cui certa politica si lamenta il fatto che comunque il cittadino si allontana dalla politica il motivo è anche che non c'è un confronto diciamo da questo punto di vista cioè se la politica è avulsa dalla realtà il cittadino poi c'è un'evoluzione continua della realtà se due persone non si capiscono è chiaro che uno dice poi non vado più a votare infatti diciamo le statistiche parlavano di un'altissima percentuale di giovani che quasi il 40% che non è andato a votare sotto i 25 anni oppure parliamo diciamo dei votanti del sud che cosa hanno fatto hanno votato in massa diciamoci tanto sono statistiche oggettive hanno votato in massa il 5 stelle perché si sono disaffezionati a una certa politica che non li ha in un certo senso mai accontentati nel passato secondo me sono d'accordo con quello che dice il sindaco una politica nazionale più vicina alla realtà che scena un po' diciamo sul territorio possa diciamo essere più vicina a capire le esigenze del cittadino bene dite che siamo in chiusura allora Massimo Amaso 30 secondi il prossimo libro il prossimo libro ha un titolo strano ci sto lavorando adesso si chiama dalla parte del drago e riechiegi un attimino quello che è il titolo dalla parte della fodera dalla parte della fodera è un modo di dire friulano per dire che una persona non si accontenta di dire quello che gli altri si aspettano rompe i pregiudizi rompe i luoghi comuni e prova a vedere cosa c'è dietro quindi si schiera dalla parte della fodera la parte che nessuno ve e nessuno conosce dalla parte del drago è un è un altro modo per dire più o meno la stessa cosa praticamente vedere la vita non attraverso una ricerca spasmodica di risposte in internet ma cercando di dare cioè riformulare delle domande corrette e che non siano già titolate da una risposta questo era il gioco e per questa cosa potrei citare quella che è una frase che ho scritto nell'anteprima del Panama Cafe che era di mio di mio nonno l'indifferenza è poco più di un sasso che cade sulla sabbia non fa rumore stai sempre dalla parte delle domande le risposte possono aspettare ama oltremisura o regola e odia onestamente in poche parole vivi fragorosamente questa è quella che lui chiamava da buon austro-lungalico la regola del drago benissimo grazie Massimo Maso grazie a voi Sandro Lazzaroni un auspicio a livello nazionale per il 2018 che cosa le piacerebbe che succedesse se potessi avere una cosa che cambierebbe guardo più sul locale dal nostro punto di vista sarebbe utile che funzionasse una città metropolitana perché per tutta una serie di servizi e anche di rapporti tra associazioni e volontariato Venezia città metropolitana che forse arriverebbe fino a Fieso d'Artico ed Olo sarebbe una cosa importantissima dal punto di vista proprio dei servizi se non riusciamo con la città metropolitana ho poche speranze di arrivare anche oltre mi accontento del locale per il momento il l'area Maso che usa un consiglio ai genitori allora di fidarsi di più delle insegnanti dei titoli che prendono ma questo c'è un po' penso su tutti i settori sono tutto io sono più bravo esatto lo stanno perché hanno guardato il mio amico medico mi dice che appunto arrivano i pazienti dicendo ho letto su internet esatto succede più o meno la stessa cosa nelle scuole di danza ho visto un video su youtube la bambina aveva la gamba all'orecchio un po' più di fiducia su quello che anche uno ci studia e ci impiega molti anni insomma per arrivare ad avere un titolo come insegnante di danza riconosciuto dal CONI e dallo Stato ma forse certi genitori portano un po' di frustrazione interiore cioè magari come dire trasferiscono sui figli diciamo quelle cose che avrebbero voluto avere per se stessi magari non sono riusciti a fare la fiducia ma questo vale anche nelle scuole io lavoro anche nella scuola un po' vabbè purtroppo quello che si sente dei video delle insegnanti c'è sempre un po' questo timore purtroppo un po' prende tutta la categoria poi un po' più di fiducia Cecilia Santoro vogliamo lanciare un appello alle persone che possono essere affette da endometriosi si possono rivolgere a? Allora le ragazze dico di andare a vedere il nostro sito www.peonlus.it lì troveranno tutte le informazioni sicuramente che servono anche l'elenco dei centri pubblici specializzati a cui rivolgersi non sottovalutate i vostri sintomi fidatevi di voi stesse e andatevi andate a farvi visitare però da un medico competente in un centro specializzato Bene ok grazie Cecilia Allora Marta Cappanelli invece cosa ecco magari forse c'è qualcuna che magari ha avuto il tumore e sta superando questo evento vogliamo magari dare un invito cioè magari si può mascherare ci si può stare bene psicologicamente si può stare bene psicologicamente mascherando un po' magari anche qualche disagio ma non solo mascherando imparando a trattare la propria pelle prima di iniziare le cure che aiuta tantissimo per evitare problematiche perché la pelle ne risente tantissimo e si è donne e si rimane donne e quindi l'estetica che sia in un centro che sia per se stessi a casa non deve essere abbandonata perché in quel momento si vive un periodo un pochino più difficile e quindi appoggiarsi o ad associazioni oppure anche nei centri di estetica ma quantomeno per riuscire a vivere questo periodo in una maniera molto più serena Benissimo ecco da Martellato un'ultima cosa questo è l'ultimo mandato per lei fra due anni mi pare due anni e mezzo se non sbaglio ecco questi due anni e mezzo qual è la vera sfida che vuole che tipo di eredità vuole lasciare al suo successore Cercare di sistemare come ho fatto in questi sette anni il più possibile i vari problemi del territorio ma anche dare un obiettivo che non si fermi al mio mandato ma sia futuro una sistemazione per esempio della strada regionale che taglia il paese una sistemazione soprattutto della parte culturale di Fies una biblioteca tutte cose che ho già in cantiere e che spero di finire per il prossimo anno ma quello l'obiettivo mio principale che spero di riuscirci alla fine del mio mandato è quella di cercare un comune da fondere col mio cioè quello di riuscire ottimizzare perché ormai i costi sono talmente alti costi non solo economici ma anche quelli del personale che non portano a più a dare delle risposte ai cittadini che si meritano e quindi fondendo due comuni secondo il mio punto di vista è mettere assieme delle risorse attivare una normativa nazionale che porta porterebbe al mio comune più del doppio dei trasferimenti per dieci anni e quindi dare ai miei cittadini un dieci anni di obiettivo che possono risistemare un po' quello che è il territorio per poi essere pronti alle sfide future di quelle che sono le re certo che questo evita il classico campanellismo ma io sono pronto a rimetterci tutto e non è adesso che ne sto parlando perché non sto parlando da quattro anni fa insomma di questo progetto è che è difficile trovare altri amministratori che un po' possono vederla diciamo che è un'ottima cosa se pensiamo che Los Angeles visto che appunto abbiamo la nostra Cecilia che di Verona copre diciamo la distanza che c'è fra Mestre e Verona quindi 120 km alla fine magari noi siamo abituati al comune che non riesce appunto a sconfinare un altro comune quindi avere questa prospettiva sicuramente ci fa pensare in grande ma più che altro sono d'accordo con lei sul risparmio dei costi e le sinergie penso che al di là dei campanellismi se magari un cittadino riuscisse ad avere più servizi più qualità e meno tasse magari arriviamo là alla fine penso che sarebbero tutti d'accordo dobbiamo un po' anche se poi comunque c'è comunque fra i comuni una bella sinergia perché vedo che fate parecchie iniziative assieme porto solo un esempio sono tre anni e mezzo che il mio comune è senza un operaio non ha un operaio in strada per mettere una transenna e questo perché la normativa la legge non me lo permette trovare un altro comune che possa ottimizzare non solo la questione dell'operaio ma anche quello dei servizi servizi sempre più specialistici dati dalla normativa che prevedono che un dipendente debba specializzarsi su una determinata cosa per dare risposta al cittadino oggi un dipendente mio deve occuparsi di lavori pubblici di ambiente di patrimonio e di protezione civile come fa quel dipendente sapere la normativa di ogni settore ecco che allora con una fusione magari si mettono insieme tre persone e ogni persona si specializza in una cosa e dà una risposta immediata e adeguata al cittadino so che come riviera del Brent ha fatto una bella sinergia con Franco Muni speriamo le auguro di realizzare questo obiettivo bene siamo in chiusura cosa ci resta da dire che adesso risaluterò tutti gli ospiti come sapete non c'è più il 60 News TV lo deleghiamo semplicemente al nostro giornale che rimane sempre il 60 News ma invece oggi parliamo di insieme idee e persone quindi poi i nostri ragazzi la Marta e Francesco in post produzione metteranno il nostro loghetto sempre presente sapete che la nostra trasmissione va in onda tutti i mercoledì dalle 21.15 sul canale 116 digitale terrestre ma anche sui nostri social perché abbiamo il nostro format social che appunto si chiama il 60 News TV fin quando Facebook non ci permette di cambiarlo ma anche Connect TV che sarebbe la nostra televisione web quindi ringraziamo dalla mia sinistra il sindaco Andrea Martellato il sindaco di Fiesso d'Artico provincia di Venezia poi abbiamo invece Cecilia Santoro referente gruppo APE Ollus Verona poi Marta Campaner titolare centro estetico Giador Estetica e Cosmesi di Treviso poi invece qui dalla mia destra abbiamo Ilaria Maso insegnante danza moderna presidente centro ASD Olimpia di Dolo poi a seguire Sandro Lazzaroni presidente SOS Enica per bambini invisibili malattie rare per intenderci e poi Massimo Maso scrittore attualmente di Panama Caffè e dalla parte della fodera però magari prossimo libro in attesa grazie a voi mi rimane che ringraziarvi dell'attenzione che mi avete dedicato che ci avete dedicato come vedete c'è la possibilità di lo scopo della trasmissione che io non ho inventato nulla di particolare perché questo qui è il classico talk show però quello che cerco ogni giorno vi posso dire con l'impegno delle mie collaboratrici di portare persone che hanno qualcosa di vivo da raccontare cioè qualcosa di vero perché magari noi non dobbiamo limitare la nostra esperienza di vita soltanto al nostro recinto delle nostre esperienze ma confrontandoci vedendo anche vedendo semplicemente questa trasmissione abbiamo la possibilità di arricchire la nostra esperienza e di capire che ci sono persone che hanno vissuto un'altra vita vivono un'altra vita e vivono un'esperienza diversa e sono disponibili a venire a raccontare fatelo anche voi se avete qualcosa da dire Vincenzo Lovino insieme idee e persone che sono state Grazie a tutti.